Continua la politica di tutela e valorizzazione della spraggio di la scosta della Saldegna. Desprese la filma storica proprio all'Alghè della Sardinia Declaration, sono diversa le iniziative a San Calendario per il Futur. A scumanza dell'Alghè l'1 d'agosto una campagna di sensibilizzazione per la tutela della scosta salda, che santa carà al 14 settembre a Santa Lucia di Siniscola, dia della festa della Marina. L'altro appuntamento internazionale si garama al Costa Day, la manifestazione dedicata alla scosta che gli esasterà il 2007 in Saldegna e spera per il 24 ottobre a Marocco. Confermata anche la realizzazione di un traballo e documentarista della BBC, Richard Books.